Quest'anno a Natale abbiamo coinvolto la community di Citroen in una grande iniziativa di solidarietà online. Con l'aiuto di Giulio Coniglia abbiamo chiesto agli utenti di prestare il proprio volto a favore di una buona causa. Gli utenti hanno risposto all'invito realizzando un video con un augurio rappello dedicato alla causa da sostenere. I tre partecipanti più votati hanno scelto le tre associazioni no profit da sostenere con la donazione di Citroen. Citroen di Good ha ottenuto ottimi risultati di partecipazione in poco tempo. Succede quando si parla di solidarietà. Citroen di Good ha trovato una risposta generosa e sorprendente da parte degli utenti divenuti portavoce di più di 40 associazioni. Citroen di Good, il premio più bello e partecipare gli altri. Grazie a tutti. E direi che i risultati sono andati al di là delle nostre migliori aspettative. Un po' sicuramente per Giulio. Giulio ha contributo moltissimo. E poi l'altra cosa che sapevamo è che in Italia ci sono veramente tante tante associazioni che si occupano di solidarietà, di far del bene. E quindi anche piccole o comunque sono tutte persone che si danno veramente verso opere giustamente molto interessanti e giuste. E che dobbiamo ringraziare, che è una tipicità molto italiana e che a noi piace mettere in evidenza. Il nostro ruolo è solo quello, cioè di mettere in evidenza il lavoro e il ruolo. E fare tantissime associazioni. Esatto. E a volte un po' ci siamo irrigiditi verso le associazioni per un motivo, perché se ne sentono talmente tante di tutti i colori, di alcune associazioni che compaiono, scompaiono, prendono soldi e se ne vanno. Però la cosa essenziale è valutare, condividere, vedere, andare a controllare i soldi che uno dona, a chi vanno e come vengono investiti. E questo è stato fatto. Questo è stato fatto. Abbiamo controllato una per una tutte le associazioni che si erano proposte. Quindi abbiamo controllato sia tutte le condivisioni, i like, per veramente far sì che i risultati siano effettivamente corretti, che non ci siano stati inganni e poi ogni associazione è stata verificata, una a una. E quindi direi che a questo punto possiamo passare finalmente alla... C'è qualche domanda, signor Piumino? Qualche domanda? Io non aspettavo una domanda. Però, non ho fatto domanda, non ho niente. Nessuna domanda? Non ci sono sostituti. È tutto così chiaro. È tutto così chiaro. Eh? È un'operazione unica, ovvero, anche per tutto questo. Questo può rispondere... Ma è una... No, no. Rispondi tu, rispondi, dopo che c'è tutta la prima fila, rispondi. Ci provo io, dai. Sono qua io che devo fare. A fine, per i sacrifici, ti tolgo non sei gru. No, l'attività di charity o di corporate social responsibility è effettivamente uno degli assi di comunicazione, come anche di Citroen. Non è la prima volta che utilizziamo i social e internet per operazioni di questo tipo. Abbiamo visto che funzionano molto bene, per l'immediatezza dello strumento, ovviamente, social. Il fatto di costruire una community, abbiamo una community su Facebook di quasi 900.000 fan, quindi chiaramente è molto ampia e quindi potendoci rivolgere a loro direttamente è molto più semplice. Quindi sicuramente ci interessa continuare questo tipo di progetto costruendo qualcosa con la nostra community. Se poi sarà questa tipologia o altre, sarà con me o con qualcun altro, non si sa. Però, cosa essenziale che è solidarietà a 360 gradi. Lo spiego perché su Facebook, su Twitter, chi ha sostenuto delle cose viene sostenuto delle altre. Io non ho preso soli a questo. Non ho preso soli a questo. Non ho preso una cosa. O se faccio una cosa. Magari venire a portare una macchina. Datemi un biumino. Lo separo. Lo separo. E' un biumino. Beh che ormai Milano è diventata una del garage. Simone d'Alcatto. Però magari, sai, siamo sette fratelli. Non so, ma possiamo avere un buono sconto senza comprare l'Alcatto. No. Grazie a Paolo. Grazie di cuore. Ok, andiamo a premiare? Dai, andiamo a premiare. Andiamo a premiare perché i signori giustamente hanno freddo tante cose da fare e c'è il buffet. Senza biumini però. Allora, andiamo a premiare. Allora, ne premiamo tre associazioni. Che sono? Che sono, innanzitutto. No, che sono le più. Che sono quelle che hanno avuto più condivisioni, più like, più segnalazioni da parte della rete. E che hanno fatto? Un bel video di presentazione. Molto carino, molto simpatico, molto in linea con lo spirito Citroen. Quindi, be positive. Be different. Be good. Fantastico. Ok. Partiamo con la prima, la terza classificata. Terza classificata. Immaginatevi un podio. Un atto d'amore ondo. Andiamo a premiare. Io faccio un cappello. Considerate che per molte persone, le associazioni, e chi fa il vero, la vera associazione, è un lavoro pazzesco. È veramente un lavoro pazzesco. Cioè, l'applauso, vero, fatelo, ma perché fanno veramente, si infilano in dei gineprai pazzeschi. Complimenti. 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 Prego. Facciamolo vedere. Fotografo. Perché ci sta anche... Donate. Lo tengo a più basso. Voi siete un'associazione di... Eh. Non lo sapete a volte. Lei si trasforma, è una delle famose... No. È un'associazione che... Di raccolta fondi la nostra. Ma poi si fondi dove vanno, questa è la cosa. È un momento. Raccogliamo fondi in tutta Italia, praticamente, perché siamo presenti su tutti i maggiori... Ma poi che città? E poi li distribuiamo ai volontari che si occupano dei cani soprattutto randaggi. Nel sud, soprattutto, ma anche al nord, eh. Abbiamo tante delegazioni. Già al sud abbiamo un sacco di problemi. Purtroppo il sud è proprio disastrato, soprattutto Sicilia, Calabria e... Campania. Campania anche, sì, anche Napoli, eh, perché ci sono delle situazioni pazzesche. Magico, eh. E poi in Puglia, soprattutto in Puglia, dove noi abbiamo fondato da quest'anno il nostro primo rifugio per cani e randaggi nella zona di Ditritto che è proprio... Vicino Bitonto, Mungivacca e... Pari, nella zona di Pari. Va bene. Tutto chiaro, domande? No. Avete più mini? No. No. E allora facciamo una foto, facciamo una foto, facciamo una foto, animali, con i cani, più bassi, più bassi. No, più bassi. Ok. E avete ricevuto donazione di 5.000 euro. Lo l'hanno distribuita subito per l'arrivo. Se no venga a controllare. Sì, sì, venga a controllare. Oppure la... Sì, già meno il cagli tritto. Non si sa mai che cosa succede, capito? Prendila a complanare e sparisci. Grazie. Grazie. Seconda associazione, ma solo per il numero di like, immagino. Esatto. Assolutamente. Supertelecatone. Mau. Lida. L'associazione Lida. Associazione Lida. Eccola qua, facciamola vedere. Assolutamente, se vorrebbe ridere, sembrava passato un guai. Stai, stai, stai a piocare. Lo so, è un imbarazzo che ci sono io. Io mi emoziono. Per me è molto più facile scrivere e parlare. Perché noi abbiamo un rifugio con 700 cani e 200 gatti. Abbiamo una situazione drammatica, siamo ad Olbia e siamo attaccati all'aeroporto di Olbia. Quindi, quando venite ad Olbia e scendete dall'aereo, un attimino lasciate la testa, sentirete abbaiare dei cani. Sono 700 cani invisibili che vivono a maggior parte grazie alle donazioni delle persone. Che bello. Non è che noi, 700 cani e 200 gatti, tutti i giorni, che arrivino 5.000 o non arrivino, devono mangiare. Fanno la differenza. Siamo diventati degli equilibristi. Il nostro sito è www.lidaolbia.it Fatevi un viaggio, la nostra pagina è lì da sezione di Olbia su Facebook e leggerete le nostre storie. Sono storie che trasportano, perché sono storie che parlano d'amore. Però ora noi ci entristiamo, cioè siamo riusciti a prenderci con l'aereo. Noi i nostri cani hanno un'energia che non potete nemmeno immaginare. Riescono a trasmettere un'energia meravigliosa. Tutti i nostri cani che vengono adottati portano la felicità e l'amore. Bellissimo. Allora, per l'ida, sezione di Olbia, donazione di 5.000 euro. I cani di Olbia, Ega. Deve grazie a voi. A voi. Grazie. Lo capisco perché comunque è veramente... Il volontario se ne mazza, ma mamma mia. Ma noi come... Abbiamo fatto due dati, tipi, 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 tipi. Bravo. È bella la dieta così. Abbiamo, signore e signori, niente po' di meno che il primo classificato. Vai. Un'altra cosa. Eccolo qua. Un altro mondo, Onus. Ben arrivato. Ben arrivato. Grazie. Non ti che. Allora, voi fate? Noi iniziamo una piccola associazione, facciamo dei progetti di cooperazione in Africa e lavoriamo anche in Italia, siamo radicati sul territorio. In particolare, questi soldi andranno ad un progetto che abbiamo a Dakar, dove abbiamo realizzato una scuola e un asilo, una scuola elementare, un asilo, dove appunto nella stessa struttura crescono bambini molto poveri e molto ricchi. Abbiamo cercato di realizzare una struttura che non esiste da nessuna parte del mondo. Diciamo, i bambini poveri arrivano da una situazione veramente, veramente povera, mentre i bambini ricchi sono bambini ricchi, quindi stiamo cercando di creare un percorso educativo dove entrambi i bambini si uniscono e crescano insieme e quindi cerchiamo di avvicinare delle realtà che altrimenti non si sarebbero incontrate. La cosa bella è che questa scuola è a tempo pieno, offre da mangiare tre volte al giorno, i bambini ricchi pagano per andare in questa scuola e c'è una fila d'attesa enorme, mentre i bambini poveri sono appunto strafelici perché hanno l'accesso ad una cosa che altrimenti non ci sarebbe. Questo progetto è una cosa a cui teniamo molto, è il partito del 2009, c'è anche una punta a raggiungere l'autonomia degli aiuti nostri. Diciamo, ogni anno costa 50.000 euro tenere in piedi questo progetto e rispetto ad altri progetti è pochissimo. Dentro questa cosa ci lavorano 15 senegalesi, quindi tutto il personale dal direttore responsabile delle donne delle pulizie sono senegalesi e noi quello che vorremmo fare è cercare di mettere in moto anche delle imprese locali di lavoro per riuscire a coprire i costi vivi del progetto in modo che anche i senegalesi si liberano della nostra partecipazione economica e che questo progetto possa andare a sostenere. Complimenti, voglio subito, voglio subito, un altro nuovo bonus, 5.000 euro, complimenti per il lavoro che fa. Grazie che c'è una foto, se no non arriva in Africa un piumino. E' comodo in Africa un piumino perché ce lo rivendiamo subito e ci facciamo cose di soldi con i bambini. Il fotografo ci chiede una foto tutti insieme, tutte le associazioni, risaliamo, ecco qua.